Poi ho questo progetto della mia Swim Academy dove appunto cerco di insegnare ai più piccolini con quella che è la mia esperienza e anche quella di miei colleghi della nazionale, quei piccoli trucchi del mestiere, gli facciamo fare tantissimi esercizi di tecnica che è la cosa più fondamentale da imparare bene nel nuoto, gli facciamo capire quello che significa essere un atleta professionista dal punto di vista di nutrizione, di preparazione mentale. Di preparazione fisica perché gli facciamo fare anche degli esercizi a secco senza andarli troppo diciamo ad affaticare il livello di giunture e altre cose. Poi che cerco sempre di creare magari delle situazioni dove la sera arriva un altro ospite che possa far loro comunque dei discorsi non dico motivazionali ma che possa raccontare quella che è la loro esperienza tipo quando andavano a scuola, come erano in grado di gestire il discorso scuola e nuoto che è sempre difficile visto che comunque il nuoto ti porta sempre via almeno due, due ore e mezza al giorno. Grazie a tutti.